Musica Allenamento mattutino per l'Udinese in vista della sfida di Bergamo contro l'Atalanta come ogni giovedì sfida in famiglia contro la Primavera di Luca Mattiussi decimo anno per l'iniziativa benefica organizzata dalla famiglia Pisacane dell'Ancona 2 con la presenza immancabile di Di Natale e dei supporti a sbianconeri Sarà Charlize Muzzane-Gemonese la sfida finale di Coppa Italia di eccellenza decisiva alla vittoria per 2-1 della prima su Tor Viscosa e 0-1 della seconda su Vesna Nella terra di Virgilio per la GSA più di Udine un inferno 81-63 il finale in favore della dinamica generale Mantova che mette a nudo le difficoltà della squadra bianconera Musica Buonasera amici appassionati bianconeri di Udinese TV Ben ritrovati con l'informazione sportiva targata Udinese quest'oggi è un orario insolito, un po' più tardo perché abbiamo dato spazio alla diretta della sfida tra Mantova e Udine purtroppo non buono il risultato per la GSA ne parleremo più in là in chiusura di TG prima diamo spazio all'Udinese che si gode la buona vittoria contro il Bologna guarda però già all'Atalanta, sfida difficilissima di domenica che si giocherà alle ore 15 e si è allenata questa mattina nella classica partitella in famiglia contro la primavera ci racconta tutto Maurizio Ferrari Giovedì mattina dedicato alla partitella per la formazione di Mister Del Neri che dopo aver giocato la scorsa settimana a un amichevole tutta in famiglia con la prima squadra quest'oggi invece si è disimpegnata contro la formazione primavera che è stata rinforzata anche nell'occasione da alcuni elementi della prima squadra come Lodi e come Andrea Balic giocatori che adesso sono pronti anche a dare un po' di cambio perché il resto della truppa si è invece riscaldata sul campo numero 3 del centro sportivo di Nobruseschi per poi subentrare ovviamente nel corso di queste due frazioni nel corso della seconda parte di match una gara che serve ovviamente per preparare la sfida all'Atalanta Mister Del Neri che ha dato come dico un solito indicazioni dall'altra parte anche Mattiusi che sta preparando il prossimo appuntamento della primavera era una sfida quella contro il Carpi che tra l'altro si giocherà praticamente in contemporanea a quella della prima squadra anche in virtù di una richiesta proprio dello staff giovanile bianconero che ha voluto dare qualche ora in più ai ragazzi che sono stati vittima nel ultimo turno di campionato di qualche problema che ha messo di fatto fuori gioco una buonissima parte della formazione così il rinvio di qualche ora della partita domenica alle 14.30 ripeto quasi in contemporanea con la prima squadra che invece giocherà a Bergamo contro l'Atalanta una sfida difficile, una sfida che Mister Del Neri vuole preparare nel migliore dei modi e una sfida che vogliono preparare nel migliore dei modi anche i ragazzi soprattutto del reparto avanzato abbiamo visto anche una bella serie di tiri con il protagonista anche scherzoso Stipe Perizza segno e dimostrazione che anche l'attacco vuole tornare a dire la sua dopo lo strepitoso gol di Danilo che ha deciso la sfida in casa contro il Bologna e li vediamo questi gol di Perizza che già sono diventati virali visto che gli ha condivisi lo stesso interessato su Instagram ne parleremo nel corso anche di social channel questa sera ecco qua si è messo a tirare le punizioni Stipe Perizza con un gran gol all'incrocio dei pali poi in maniera scherzosa come al solito si è bullato con la telecamera facendo il gesto del cuore che fa spesso quando segna i gol in campionato e speriamo di poterlo rivedere presto chissà già a Bergamo contro l'Atalanta dove l'arbitro del match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli questa è la disegnazione dell'AIA con gli assistenti che saranno Crispo e Bottegoni quarto uomo Cariolato, ambizionali Orsato e Kiffi questo il fischietto che arbitrerà Atalanta Udinese Udinese Bologna che ha visto invece come protagonista fuori dal campo Totò Di Natale che è stato festeggiato come grande ex capitano oggi non si è sottratto dal suo ormai consueto evento benefico che organizza insieme alla famiglia Pisacane dell'Ancona 2 di questo presepe con le donazioni che andranno in beneficenza lo abbiamo intervistato, sentiamo le sue parole Totò ancora una volta presente qui all'Ancona 2 per il presepe benefico un appuntamento che non può mancare anche se ormai non fai più parte dell'Udinese ma sei sempre qui anche con il cuore Per me venire qui a Udine a festeggiare un momento così importante come la beneficenza fa sempre piacere Poco Vincenzo d'Ancona e Maria per me sono come genitore sono qui volentieri a Udine ma ringrazio tutte le persone che ci aiutano a fare anche questo presepe e le persone che vuole bene l'Ancona e anche la beneficenza Il tuo ritorno qui a Udine anche in occasione dei 120 anni è anche coinciso con il ritorno alla vittoria dell'Udinese quindi è un momento di felicità anche per il presepe un bel momento da vivere tutti qui insieme Sì, è stata una bella partita contro il Bologna è stata una partita difficile poi Danilo ha fatto un grandissimo gol e sono contento credo che alla fine tre punti fa anche morale Ha fatto un gol alla Totò Danilo? Sì, mancano ancora 208 però ci arriverà, dai Totò cosa vuoi trovare sotto l'albero? Io credo che è un po' di salute che quello non manca mai perché senza salute non puoi fare nulla cercare di, specialmente in Italia cercare di far stare bene alle persone che hanno poco, non sono fortunate e poi cercare di far crescere i ragazzini nelle scuole di calcio che ho io e dare qualche po' di esperienze Senti, che futuro da dirigente, da allenatore? No, credo più da dirigente credo che sto girando un po' sono andato a tante squadre sono andato a vedere come lavoro e poi vediamo l'anno prossimo Senti, rientrare all'Udinese no? All'Udinese c'è tante dirigente già credo che ho fatto 12 anni più belle della mia vita gente di Unione voglio ringraziare i tifosi però prenderà un'altra strada Senti, hai parlato di solidarietà abbiamo visto un tuo collega donare 3 milioni di euro alle famiglie delle vittime di quell'aereo caduto anche questo è fare calcio? Sì, anche giusto ci guadagna tanto devi aiutare sempre le persone che hanno meno io sono uno che faccio tanto ma non lo dico perché poi quello che conta di più è farlo Leonardo lo ringraziamo perché ha fatto un gesto così importante speriamo che tante persone che stanno bene aiutino le persone povere Totò, cosa ti senti di augurare ai tifosi dell'Udinese visto che siamo di fronte a un presepe sia vicino al Natale? Di fare bene fa un grandissimo campionato per la città per i tifosi anche per la gente credo che alla fine l'Udinese farà un grandissimo campionato Queste le parole l'augurio di Totò di Natale per il campionato dell'Udinese abbiamo ascoltato ovviamente anche le voci di chi c'è dietro questa bellissima splendida iniziativa a chi ha organizzato proprio il tutto chi ha fatto materialmente il presepe e abbiamo sentito i protagonisti a cominciare proprio da Maria Pisacane dell'Ancona 2 Maria si rinnova anche questa volta il presepe dell'Ancona 2 ed è un momento che noi viviamo sempre molto da vicino siamo spesso qui da voi ed è un momento sempre bello nell'insegna della beneficenza è bellissimo anche per me sono dieci anni che facciamo il presepe quest'anno sono dieci anni dell'associazione e non poteva mancare il dieci della maglia di Totò Totò che è venuto anche questa volta segno di un rapporto che non si è esaurito insomma con i colori dell'Udinese Totò per noi fa parte della famiglia e fa parte ovviamente anche della famiglia dell'Udinese così come fa parte della tradizione ormai di ogni Natale questo presepe e questo presepe che dicevamo è l'insieme beneficenza un bel momento da vivere tutti insieme sotto il Natale io ringrazio tantissimo Totò di Natale e l'Ancona 2 perché a Feletto Umberto abbiamo una grande casa la casa dell'autismo on special home e il ricavato della beneficenza che verrà fatta sarà devoluto alla nostra associazione grazie tante davvero ed è un'associazione che insomma vede questo bellissimo presepe allora invito anche alla mia destra un altro ospite perché vogliamo parlare di questo presepe che è sicuramente molto molto bello è un presepe artistico sono molte ore di lavoro addirittura c'è qualche anno di lavoro a tempo perso le ferie quello e quell'altro quelli che mi conoscono non sanno i sacrifici che vengono fatti però per me è un onore sia lavorare con Maria con Vincenzo i titolari dell'Ancona 2 e tutto il sacrificio che viene fatto a scopo benefico per me sono onorato ecco sono contentissimo di poter continuare su questa strada poter donare a qualcuno che sta molto peggio di me ecco e di dare una mano e di essere nel sociale di contribuire e di aiutare chi ha bisogno e ogni anno si cerca di migliorare sempre sempre certamente grazie a voi comunque grazie a tutti iniziativa che ovviamente simboleggia tanto lo spirito natalizio di beneficenza di far bene chi non sta condividendo tantissimo lo spirito natalizio in casa Atalanta è Maurizio Piniglia che ieri ha disertato la cena di Natale della squadra bergamasca tra l'altro postando su Instagram una foto di lui con la moglie chiaro segnale alla società chi deve capire che vuole cambiare aria già a gennaio visto lo scarso utilizzo che ne fa Giampiero Gasperini che invece veniva utilizzato sempre e comunque negli splendidi 12 anni di Udinese a Totò di Natale e ovviamente l'AUC lo ha voluto ricordare lo ha voluto omaggiare di un bellissimo quadro con le 12 frasi più significative per ogni club ce l'ha spiegato il presidente dell'AUC Daniele Muraro questo bel cadeau a Totò di Natale in compagnia di Daniele Muraro presidente dell'AUC perché Totò è tornato a Udine lo ha fatto per la festa dei 120 anni lo ha fatto per il presepe benefico dell'Ancona 2 l'Udinese e i suoi tifosi non si sono assolutamente dimenticati di lui e questo quadro ne è una grandissima dimostrazione ne è una grandissima dimostrazione anche perché non si può dimenticare di Totò di Natale di tutto quello che ha fatto per l'Udinese e per i miei tifosi abbiamo giuito abbiamo avuto tante pagine di storia grazie anche ai suoi gol quindi noi a fine campionato abbiamo pensato di concerto con tutti i club di fare un regalo particolare non il solito regalino ma un regalo fatto veramente col cuore che non ha un valore strettamente economico ma un valore molto affettivo per noi infatti abbiamo esortato tutti i club a fare una frase per ricordare i 12 anni di Totò a Udine e abbiamo fatto un quadro dove raggruppa tutte le frasi che sono state dette dai club con il riferimento al club e la frase per ricordare i 12 anni di Totò a Udine ecco la domanda sorge spontanea quanto è stato difficile per ogni club produrre una sola frase per Totò? sono arrivati i poemi sono arrivati se dovevamo mettere lasciare ai club ampia libertà veniva fuori non facevamo un quadro facevamo la Bibbia quindi abbiamo alcuni abbiamo dovuto tagliarli noi per lasciare solo il concetto il concetto perché nel quadro ovviamente più di due righe sebbene come dico per scrivere quello che ha fatto Totò a Udine veramente devi fare la Bibbia quindi vecchio nuovo e nuovo testamento quindi sono stati bravi sono stati bravi perché sono riusciti a concentrare i propri sentimenti in poche righe in poche righe poi questo quadro è stato fatto proprio a fine campionato quindi con l'addio ancora fresco ancora molto emotivo quindi forse è sentito ancora di più ancora di più sentito una notizia flash che arriva dall'Europa League è stata rinviata Sassuolo Genk per Nebbia si giocherà domani alle 12.30 questa è la decisione proprio per la gara che vede la squadra italiana impegnata il 6 gennaio per la finalissima del torneo numero di finale di Coppa Italia di eccellenza vedrà di fronte Charlize Muzzane e Gemonese la Gemonese che ha eliminato i campioni in carica del Vesna e Charlize Muzzane che abbiamo seguito oggi in esclusiva su Dinese TV che ha battuto 2-1 il Tor Viscosa vediamo battendo il Flaibano di Marco Lorsie al primo al fondo e Charlize Muzzane passa in vantaggio su cross su calcio d'angolo il gol è di Acampola indisturbato ha battuto a rete Prata Travis Domini contro Porcia e Torre contro Flaibano sono le due semifinali in contemporanea con questa ma seguiamo Acampola in posizione regolare Acampola salta Buso Acampola deve solo apposare in rete e la doppietta di Antonio Acampola al quarto dono di gioco fa volare il Charlize Muzzane e l'ha uscito Buso e l'ha uscito Buso per cercare di contrastare di piede Acampola il guisto dell'attaccante in maglia orange la finta in un quarto d'ora doppio uppercut del Charlize Muzzane inizia il secondo tempo l'unica sostituzione da parte di Zama è stato Godeas al posto della ricca tra Rivignano e Camino sono all'intervallo sul puntaggio di 1-1 ha segnato il camminese Salvadori e poi il rivignanese della siega 1-1 Rivignano Camino al fine primo tempo Godeas fa pattire un sinistro che colpisce Verrillo e poi ribadisce avete Antonio Cucciardi no Saverio Cucciardi e Torviscosa riduce le distanze gol una rasoiata di esterno sinistro da parte di Cucciardi qui Mugugna il pubblico di Carlino e poi l'urlo liberatorio dei tifosi del Charlie Smussane trasferta negativa per la GSA più di Udine per l'undicesima di campionato del Gironese della Lega 2 di Basquet 81-63 la vittoria della dinamica generale Manto va contro la formazione di Coach Lardo gli altri risultati che hanno visto Sega Fredo Bologna strapazzare Trieste 76-63 Ravenna Verona 78-70 Forlì Iesi 75-81 colpo esterno dei marchigiani mentre Chieti ha battuto Recanati 78-72 Fortitudo Bologna Roseto 76-70 infine il blitz esterno di Piacenza sul campo di Ferrara 79-81 Ferrara che sarà tra l'altro la prossima avversaria proprio di Udine in campionato al Palacividale per una classifica che non è più così piacevole per Udine volano infatti al primo posto Virtus Bologna e Treviso con 18 via via tutte le altre Mantova sale a 14 e Udine nel gruppone di squadre a 8 insieme a Imola Verona Ferrara Chieti e Forlì ultimissima a quota 2 Recanati quindi adesso coach Lino Lardo dovrà guidare la riscossa proprio contro Ferrara l'ultima notizia del nostro TG Sportivo a me non resta che salutarvi e lasciare la linea a Valentina Bearsi per tutto il resto delle notizie di giornata bottino da 10 mila euro in un market di Pazian di Prato a Carlino derubata e ferita una signora reana del Royale spaccata in un negozio di computer la procura di Tarragona ha presentato ricorso contro l'archiviazione dell'inchiesta relativa alla morte delle studentesse Erasmus tra cui la Friulana e Lisa Valent si sono aperti oggi a Sauris i tradizionali mercatini di Natale che hanno richiamato nella località della Valle del Lumia e centinaia di persone concerto particolarmente apprezzato quello di ieri sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dove si è esibito Niccolò Fabi primo e unico concerto in regione Buonasera e buon 8 dicembre benvenuti all'appuntamento con le informazioni di Udine News in apertura come avete sentito dai titoli la cronaca una nottata di super lavoro per i carabinieri in provincia di Udine due rapine e diversi furti hanno impegnato i militari tra Pazian di Prato Carlino e Reana del Royale ci dice tutto Davide Zanirato Ammonta a circa 10.000 euro il bottino di una rapina a mano armata compiuta ieri sera da una banda composta da 4 malviventi in un supermercato di Pazian di Prato lo hanno accertato i carabinieri della compagnia di Udine impegnati da ieri in ricerche e che hanno quantificato insieme con l'amministrazione del supermercato l'ammontare del denaro rapinato i banditi sono entrati in azione attorno alle 19.30 in orario di chiusura del negozio tra di loro a volto coperto sono entrati nel supermarket impugnando una pistola hanno minacciato con le armi il personale hanno costretto i cassieri ad aprire il registratore di cassa poi si sono impossessati del denaro contante e sono fuggiti a bordo di un'auto una Volkswagen Golf di colore bianco alla cui guida c'era un complice i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce le ricerche immediatamente avviate dai militari non hanno però finora dato esito altro episodio sempre ieri in tarda serata si è verificato a Carlino nella bassa friulana una donna di 47 anni è stata rapinata da due uomini ed è finita in ospedale è successo attorno alle 20 in una zona lontana dal capoluogo la donna stava facendo rientro a casa uno dei due l'ha immobilizzata prendendola alle spalle l'altro le ha strappato la borsetta dove la donna aveva il portafogli con 250 euro in contanti documenti d'identità il telefono cellulare e altri oggetti personali sul caso indagano i carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro e della compagnia di La Tisana furto con spaccata infine a Reana del Royale ad essere presa di mira la friul computer servizi informatici che sorge lungo la Pontebana erano circa le 4 quando è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il titolare del negozio e i carabinieri della stazione di Feletto i malviventi hanno colpito usando una vettura Fiat risultata poi rubata e una volta mandato in frantumi il vetro hanno rubato tutti i computer che sono riusciti a trovare per un danno che ammonta secondo le stime a diverse migliaia di euro ancora la cronaca armato di macete e roncola ha sfondato una finestra del luogo di lavoro della moglie se introdotto all'interno dei locali la raggiunta ha cominciato a inveire e minacciarla quando sono arrivati i carabinieri chiamati dai presenti li ha aggrediti ferendone uno in maniera non grave infine è stato immobilizzato e arrestato protagonista della vicenda un cittadino serbo di 40 anni bloccato dai militari della compagnia di Udine per i reati di porto abusivo di armi danneggiamento aggravato violazione di domicilio e violenza a pubblico ufficiale da una ricostruzione dell'episodio fatta dai carabinieri l'uomo avrebbe compiuto il gesto dopo l'ennesima lite con la moglie una cittadina serba di 35 anni il militare ferito è stato soccorso e portato all'ospedale di Udine dove è stato medicato e assistito le armi sono state poste sotto sequestro l'uomo invece sviluppi sul caso dell'incidente delle studentesse Erasmus avvenuto in Spagna a marzo nel quale perse la vita anche la nostra friulana Elisa Valent il ministro Gentiloni ha fatto sapere che l'inchiesta potrebbe riaprirsi sentiamo perché la procura di Tarragona ha presentato ricorso contro l'archiviazione del caso inoltre sulla gestione del dossier il nostro ministero continuerà ad esercitare ogni utile azione di monitoraggio con immutata attenzione lo scrive il ministro degli esteri Paolo Gentiloni rispondendo alla lettera inviatagli nei giorni scorsi dalla presidente della regione Serracchiani contenente una richiesta di massimo supporto alle famiglie delle vittime dell'incidente stradale avvenuto a marzo in Spagna in cui morirono sette studentesse italiane tra cui Elisa Valente di Venzone a seguito dell'archiviazione dell'inchiesta penale compiuta dal giudice istruttore del tribunale di Amposta Serracchiani scrisse a Gentiloni facendo presente che quella decisione in attesa aveva gettato nuovamente nello sconforto le famiglie delle vittime colpite al cuore da una scelta frettolosa e apparentemente ingiusta il ministro nella lettera fa sapere che la Farnesina anche per tramite dell'ambasciata italiana a Madrid e del Consolato Generale di Barcellona ha seguito la vicenda fin dai primissimi momenti prestando ogni possibile assistenza alle famiglie sia in Italia che in Spagna per quanto riguarda poi l'archiviazione il ministro ha scritto alla Serracchiani che pur nel pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura abbiamo fatto immediatamente presente alle autorità spagnole la forte aspettativa di un giudizio approfondito in relazione alla tragedia infine Gentiloni ha fatto sapere che di recente la procura di Tarragona ha presentato ricorso proprio contro la decisione assunta dal tribunale ritenuta precipitosa perché presa senza aver ascoltato le testimonianze del conducente ciò significa ha concluso il ministro degli esteri che anche la procura spagnola sostiene la posizione delle famiglie delle vittime due uomini un cittadino afgano di 24 anni e uno pakistano di 33 sono stati sorpresi in possesso di un chilo di hashish arrestati dai carabinieri di Udine per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti due stranieri entrambi incensurati richiedenti asilo per motivi di protezione internazionale ieri notte sono stati fermati per un controllo dai militari dell'arma alla stazione ferroviaria di Codroipo durante un servizio finalizzato proprio alla repressione del traffico di stupefacenti erano a bordo di un treno proveniente da Venezia Mestre diretto a Udine la droga suddivisa in dieci panetti era nascosto nello zaino del cittadino afgano lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e due giovani in carcere a Udine nei giorni scorsi è stato presentato dalla regione il nuovo programma di odontoiatria sociale che vede tra i suoi protagonisti anche cinque pronto soccorso odontoiatrici quattro già attivi rispettivamente a Udine Gorizia Trieste e Pordenone il quinto a Gemona del Friuli sarà avviato a inizio anno noi abbiamo visitato la struttura udinese operativa da inizio novembre vediamo siamo partiti con il primo di novembre il pronto soccorso pian pianino è andato a regime a parte la prima settimana che è stato un po' di avvio e quindi con qualche rallentamento attualmente sta funzionando con una costante offerta di servizi siamo su una media grosso modo di una prestazione a mezza all'ora come previsto dallo standard della delibera regionale l'accesso è appropriato rispetto ai criteri che sono stati definiti dalla normativa quindi di fatto l'utenza sicuramente si rivolge per le condizioni che richiedono veramente ricorso al pronto soccorso e quindi la cosa dà sicuramente soddisfazione agli utenti in primis e agli operatori che possono lavorare con ordine e con tranquillità il pronto soccorso odontoiatrico è frequentato in genere da chi accusa il classico mal di denti così definito ma che è un sintomo generico che può essere qualche volta dovuto proprio a un dente e altre volte ad altre patologie anche a una sinusite per esempio quando è opportuno rivolgersi al pronto soccorso odontoiatrico? è opportuno rivolgersi in tutti quei casi in cui qualcuno si accorga che c'è qualcosa che non va può avere un dolore può avere una tumefazione può avere dei sintomi particolari che sono comparsi improvvisamente questo può essere dovuto anche soltanto a un'infezione di un dente ad infezioni delle ossa macellari può essere dovuto qualche volta anche a neoformazioni tumori parliamo ora delle festività natalizie è partita l'animazione in piazza Venerio a Udine agli interventi della ditta Marangone Giacomini che ha collocato 18 abeti della ditta Gasparotto che si è occupata dell'illuminazione e si aggiungono tre giostre per il divertimento dei bambini i costi sono stati sostenuti dalla Camera di Commercio non manca anche il contributo dei commercianti coinvolti nell'iniziativa con Babbo Natale che offrirà dolci ai presenti in piazza nelle giornate di sabato 10 17 e 24 dicembre dalle 15 alle 18 e 30 da lunedì 12 dicembre verranno distribuite nelle scuole materne i biglietti omaggio per le giostre stampati con i loghi di Confcommercio e Udineidea i protagonisti del Natale in città l'animazione in piazza Venerio durerà fino alla Befana e si sono aperti oggi a Sauris i tradizionali mercatini di Natale nella località della Valle del Lumiei già centinaia e centinaia i visitatori vediamo come è andata mancava la neve a caratterizzare il suggestivo borgo ma la giornata solleggiata ha permesso comunque grande affluenza di visitatori e turisti a Sauris in Carnia dove hanno debuttato i tradizionali mercatini di Natale creazioni artigianali di lunga tradizione specialità agroalimentari e gastronomiche squisite hanno accolto il pubblico salito tra le montagne della Valle del Lumiei per trascorrere la giornata festiva magari trovando qualche idea per i regali natalizi sulle bancarelle disposte tra i rustici stavoli le antiche case in pietra e legno si sono potuti ammirare e acquistare i più tipici oggetti dell'artigianato carnico fabbricati in legno ferro battuto paglia ceramica lana cotta e feltro presenti naturalmente gli scarpez gli addobbi natalizi le sculture i giocattoli lavori a maglia tante idee regalo e prodotti semplici e genuini della cucina locale per i tanti salite a visitare i mercatini naturalmente non sono mancate le degustazioni del celebre spec prosciutto crudo leggermente affumicato per il quale Sauris è conosciuta dai gourmet e ancora la birra artigianale le ricotte affumicate i formaggi di malga i mieli di montagna i dolci natalizi musiche piccoli spettacoli di artisti di strada danze tradizionali distribuzione di vin brulee biscotti natalizi hanno fatto quindi da contorno alle bancarelle che ravviveranno il paese sino a domenica 11 dicembre sabato a Udine saranno ufficialmente inaugurati i lavori per la realizzazione del nuovo parco rifugio un progetto su cui da tempo è impegnata la sezione provinciale dell'ente nazionale protezione animali la nuova struttura intende migliorare la tutela degli animali ospiti offrire alla comunità anche iniziative didattiche e culturali vediamo sabato 10 dicembre alle ore 11.30 faremo la inaugurazione ufficiale dell'inizio dei lavori del parco rifugio in realtà infatti sono già partiti sono fatte le fondamenta ma faremo questa inaugurazione proprio per coinvolgere tutta la cittadinanza tutti coloro che hanno già contribuito che desiderano contribuire per completare ancora prima questa nuova struttura appunto una struttura che vuole dare una nuova visione di quello che è un canile non vuole più far pensare alla pietà degli animali dietro le sbarre ma un contatto diretto di questi nostri amici pelosi che cercano una nuova famiglia appunto per sempre che tempesti che si prevedono nella realizzazione appunto in base alla raccolta dei fondi perché grazie alla regione che ha impegnato degli importanti contributi sono appunto partiti i lavori e grazie anche già a delle donazioni di privati poi in base ad altre donazioni riusciremo il prima possibile a completare la prima tranche dei lavori che consistono in cinque padiglioni di box per i cani e nei tre gattili in modo tale da trasferire tutti gli animali mediamente presenti nell'attuale struttura in quella nuova e poter proprio iniziare l'attività e a proposito di donazioni anche dell'arrivo ormai prossimo del 2017 vediamo anche un calempario con cui è possibile sostenere sì esatto grazie sempre all'opera di tanti volontari tra cui anche una fotografa che ha realizzato anche la grafica con le foto di alcuni dei nostri ospiti anche già per fortuna adottati come questa cagnolona raccogliamo dei fondi dei fondi per il parco rifugio partenza col botto a Udine per la grande mostra Napoleone Bonaparte già arriva le cinque facce del trionfo ospitata per questa sua prima proposizione europea nell'ex chiesa di San Francesco diverse centinaia di persone hanno visitato l'esposizione nelle prime due giornate di programmazione ricordiamo che la mostra sarà visitabile fino al 26 febbraio e le venerdie sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e la domenica con orario continuato dalle 10 alle 18 il calendario anche prevede un ricco programma di apertura straordinaria in occasione di questo ponte dell'8 dicembre e delle prossime festività già arriva l'esposizione dedicata alla vita di uno dei personaggi che maggiormente ha influenzato la storia dell'umanità Napoleone Bonaparte e propone al pubblico una straordinaria collezione di oggetti originali dell'epoca e personali appartenuti a Napoleone oggetti armi uniformi documenti che evocano diversi aspetti della vita del condottiero dai trionfi militari alla sua vita strettamente intima e privata restituendo un quadro a tutto tondo della società e del costume dell'età napoleonica e ieri sera al teatro nuovo Giovanni Daudine l'atteso è molto applaudito ritorno in regione di Niccolò Fabi dopo lo spettacolare concerto in alta quota che in estate aveva richiamato nel comune di Chiusaforte quasi 4.000 persone Udine ha rappresentato la prima tappa del nuovo tour teatrale del cantautore romano vediamo come è andata io tornerò verso dicembre da da queste parti finalmente a Udine suoneremo un po' con lui moschia mi sento mi immagino che date tutto in su a destra tutto in su non posso dire sinceramente che sarà meglio di adesso perché cioè da un certo punto ti sei ovvio no questo non si può spettare però a dicembre ho la sensazione che qui potrebbe essere complicato l'aveva annunciato ad agosto davanti a oltre 4.000 persone incantate dal suo concerto ad alta quota nell'area del rifugio Gilberti a Sella Nevea e così è stato Nicolo Fabi reduce da una tour europea è tornato e ha condiviso le sue canzoni dal palco comprensibilmente meno suggestivo di quello estivo ma senz'altro più confortevole del teatro nuovo Giovanni D'Audine primo e unico concerto in regione del nuovo tour teatrale una somma di piccole cose dal titolo dell'ultimo progetto discografico del cantatore romano Targatenko 2016 come album dell'anno è una somma di pass che rendano accetto di scelte sbagliate che hanno capito col tempo ogni volta puntato ogni centimetro come ogni minuto che abbiamo spregato e non ritornerà trovo che sia uno dei pochi in Italia della nuova generazione che scrive testi veramente eccezionali e gli arrangiamenti anche sono solidi e emozionanti per cui una serata fantastica un concerto molto bello e grande Niccolò Fabi Siamo alle previsioni del tempo per domani sui monti cielo sereno poco nuvoloso per velature congelate notturne a fondo valle marcata in versione termica su bassa pianura e costa nuvolosità variabili per nubi basse probabili nebbie nelle ore più fredde con locali gelate notturne mentre sull'alta pianura l'atmosfera sarà più asciutta e meno fredda con maggiore soleggiamento con questo è tutto grazie per averci seguito buona serata ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti